La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha spento 25 candeline ed ha festeggiato con un evento all'ex chiesa di San Giacomo. Tantissima la partecipazione dei cittadini e rappresentanti delle istituzioni e autorità. Durante l'evento è stato ricordato il percorso svolto in questo quarto di secolo, la vicinanza al territorio e le scelte importanti che hanno portato a quello che la Fondazione è oggi. Tenga conto che io di questi 25 ne ho fatti 20 e la Fondazione è una cosa non importante, direi che è determinante per lo sviluppo della città. Questa è stata la mia idea di Fondazione, non solo un ente che deve erogare ma un ente che deve muoversi per fare sviluppo alla città. Questo è fondamentale, quindi un'attività di natura esclusivamente e preminentemente politica. Questa è una città che era famosa a rovescio perché nessuno la conosceva, nessuno ci veniva, era una città che risentiva molto il suo passato agricolo, anche se ci sono stati buonissimi sediamenti industriali, oggi è completamente diversa, oggi c'è tanta ricerca, tanta università, tanta sanità, tanta cultura, è un centro molto più vitale di prima, una città che è molto cambiata ed è molto cambiata in meglio. Io mi accontenterei che la Fondazione continuasse a conservare la fiducia di tutti i suoi concittadini, come mi pare almeno di capire in questo momento e che soprattutto non si dimenticasse mai che al servizio delle comunità